Le vaccinazioni sono il metodo principale per eliminare alcune malattie, mentre la misura annunciata dal Ministero della Salute che chiuderà la scuola dell'obbligo ai bambini non vaccinati, la proposta di decreto continua ad alimentare il dibattito, ma più sul piano politico che sanitario. I vaccini infatti sono diventati centrali nello scontro tra i due maggiori rivali politici della scena italiana, mentre invece la classe medica rimarca che ogni vaccino ha specifici profili di efficacia, ma anche sicuramente effetti collaterali. La vaccinazione è sicuramente un atto che comporta qualche rischio, ma non quelli esaltati e comunicati da chi è contro. Si esprime così il dottor Aurelio Occhinegro, referente della Regione Campania per la rete vaccini della Federazione Italiana Medici Pediatri, sottolineando come molti vaccini hanno invece rappresentato passi avanti decisivi per la salute dell'umanità. È attuale la polemica sui vaccini, soprattutto sull'obbligatorietà che è stata introdotta dal decreto legge che deve essere ancora convertito, ma che ormai è in dirittura d'arrivo, e che porrà appunto l'obbligatorietà per l'iscrizione alla scuola primaria soprattutto di tutti i vaccini. La polemica veramente è stata da parte di noi esperti sul fatto che alcuni vaccini erano stati esclusi. Noi pediatri in particolare raccontiamo invece che tutte le vaccinazioni disponibili vengano fatte perché sappiamo che le vaccinazioni sono il metodo principale per contenere o addirittura poter eliminare alcune malattie come è stato fatto per il vaiolo in passato e noi ci auguriamo di poter fare anche in futuro per il morbillo, per la poliomelite, malattie che sono eradicabili, le altre sono quantomeno contenibili. Naturalmente la vaccinazione è un atto che comporta qualche rischio, ma non quelli che vengono comunemente esaltati e criticati da parte degli antivaccinisti. Quindi l'atto vaccinale è un atto doveroso non solo per la salute e la tutela dei nostri bambini, ma anche per la collettività perché ci consente di limitare alcune malattie e in un futuro di poterle anche eliminare. E' dunque un dovere sociale innanzitutto da parte del genitore nei confronti del proprio figlio, per tutelare la sua salute e su questo noi pediatri spingiamo, ma anche per la collettività perché consente di risparmiare anche notevolmente per quanto riguarda spese sanitarie conseguenti poi a malattie che potrebbero essere evitate.